Premier League, Tris del Manchester United e il Di Conte torna a sorridere. Manchester la domenica della Premier League si apre con lo show del Manchester United. Che piega in Leicester. All'Old Trafford finisce 3-0 una sfida sempre in controllo dei Red Devils. Che creano tantissime occasioni rischiando anche di incrementare il punteggio. Dopo un miracolo di De Gea. Che si supera su Iannaco, arriva, al 25, il lancio di Bruno Fernandes per Rashford che si ritrova a 2x2 con Orde non sbaglia. La ripresa si apre con la traversa colpita da Martinez, poi al 56 Rashford trova la doppietta personale e al 61 Sanco chiude la sfida ancora su assist di Bruno Fernandes. Vittoria importante per la squadra di Tenag, che si riscatta dopo i pareggi contro l'Eds e Barcellona in Europa League. E si porta a meno 3 decalitri Manchester City. Manchester United Leicester 3-0, tabellino e statistiche dopo il Milan. Torna a sorridere anche il Tottenham di Conte dopo il K.O. in Champions League con i Milan. Torna a sorridere anche il Tottenham di Antonio Conte, che supera 2-0 nel derby il West Ham con i gol di Emerson Royale e Edison e sale al quarto posto in classifica. Scavalcando il Newcastle. Tottenham West Ham 2-0, tabellino e statistiche Premier League, la classifica.